Per fare festa ci vuole un motivo. La nostra società chiassosa vorrebbe essere sempre vestita a festa e si sta abituando a festeggiare purtroppo senza motivo. Ma la lunga non regge e dietro all'uccichio delle nostre banalità si nasconde spesso un grande vuoto e tanta disperazione. Domenica prossima è la quarta di quaresima. È chiamata dalla liturgia la Domenica Letare perché si apre con un invito alla gioia. Rallegrati Gerusalemme, voi tutti che l'amate, riunitevi. Queste sono le parole appunto del canto iniziale. Ma è possibile comandare la gioia? Mi sembra che in fondo sia proprio questo il cuore della pagina evangelica che ci offre. La liturgia è la conosciutissima parabola del figlio al prodigo. Il punto più alto del racconto di Gesù non sembra essere neppure l'abbraccio del padre misericordioso che accoglie il figlio e lo riammette in casa, ma l'esortazione rivolta al fratello maggiore. Bisognava far festa e rallegrarsi perché tuo fratello era morto ed è tornato alla vita. Bisogna far festa. L'ammonimento è molto serio in realtà. È assolutamente necessario riscoprire le motivazioni autentiche della gioia. Dio non cerca da noi un sorriso ebete come quello di uno spettacolo televisivo, ma aiuta a riconoscere che gli siamo debitori di tutto, della vita stessa. La sua misericordia è la nostra salvezza. Allora sì, bisogna fare Pasqua e festeggiare. Ecco perché la Quaresima. Ecco perché la Pasqua.